Il convegno Aversano si conclude con la disputa del premio Mar Rosso, un miglio per anziani categoria F abbinato alla Tris Quarte Quinte. Sono in quattordici, non partente il quattro Zador, cinque in prima fila, sei in seconda e tre in terza. Prima fila per Point Lavec, Canfarù Dei Ronchi, Vichingo, Clemar, Vaucer e Azzarra. In seconda Zoccolo, Getta, Rosmit, Tre, Bugo Dei Ronchi, Uro Gallo, Getto, Uqueli Adori e Zampillo, Getto. Terza fila per Zenigata, Utiloppi e Pecchiaio Loggetto. Al via c'è Granlotta, lungo i paletti Point Lavec, Canfarù Cerca di rientrare a Vichingo, Clemar e più a largo Azzarra. Crea un po' di trambusto a Rude Ronchi che ha sbagliato al via, poi riesce a liberarsi. E così Point Lavec, Canfarù, un po' a sorpresa e leader. A largo c'è Azzarra, Frustino girata avanti. È partito molto bene Zoccolo, Getto che si è sistemato secondo, lo stesso ha fatto Zenigata che addirittura si è ritrovata terza, dalla terza fila. Primo quarto in trenta secchi, Point Lavec vuole correre davanti. Azzarra premia ai suoi fianchi. Si è liberato dal gruppo anche Aro Smith Trebb che avanza a larghe folate per andare in seconda pariglia. Quarantaquattro e tre i seicento. Si vola. La mossa dalle retrovie di Uro Gallo Jet. Uro Gallo Jet risale, trova l'anticipo di Aro Smith Trebb. Azzarra è già richiesto. Anche utile Oppi nelle prime posizioni. Sta passando Aro Smith Trebb in seguito da Uro Gallo. Chilometro ultimato in uno e sedici da parte di Aro Smith Trebb che prende il largo. Uro Gallo cerca di scendere davanti a Point Lavec Kampf che stringe i denti. Aro Smith Trebb arriva ai tre quarti di miglio in uno trenta e tre con tre lunghezze di margine su Uro Gallo Jet. Aro Smith Trebb ha preso vantaggio definitivo. Deve solo far trascorrere i metri. Si è liberato dalle retrovie Voucher che va all'inseguimento di Uro Gallo. E così mentre va a vincere nettamente Aro Smith Trebb numero otto Uro Gallo secondo numero dieci al terzo il cinque Voucher al quarto il tredici Zenicata. E dal quinto a sorpresa l'undici di Ucheli Adorio. E questo l'arrivo probabile ed ufficioso vince Aro Smith Trebb uno quattordici e sei dalla seconda fila per il il figlio di Lebe NRL del signor Vincenzo Balsamo affidato a Vincenzo Gallo dall'allenatore Gennaro Amitrano che era a Roma ed ha lasciato le guide a Vincenzo Gallo. Ottimo Uro Gallo Jet che chiude al secondo posto. Dopo percorso dispendioso rivedete le battute finali con Aro Smith Trebb in fuga. Netto vincitore con circa venti metri di vantaggio su Uro Gallo Jet. Poi il cinque Voucher quindi per la Tris otto dieci cinque per il quartè otto dieci cinque tredici e per il quintè otto cinque dieci tredici undici. È tutto dal Cirigliano di Aversa. Arrivederci alla prossima giornata di corse che si terrà mercoledì quindici dicembre. Buona serata a tutti.